giulia cosa mangiamo stasera? eh non lo so facciamo la carbonara? eh dai perché no? però non so farla cioè non sai farla carbonara? cerca la ricetta va bene allora carbonara guardo youtube a vedere se c'è qualcosa di veloce così te lo faccio vedere ingrediti 320 grammi di sporchetti 6 tuorli di uova medie 150 grammi di guanciale 50 grammi di piccolino romano 150 grammi di guanciale l'hai già detto attento ti ripeto di guanciale perché mai? chi parte della guaggia del maiale lo sapevo e non quello per dormir e non puoi mettere proprio mai la panna altrimenti saranno voi ora mettete sul fuoco una panna tagliate il rosolante e il guanciale mettete a bollirla con salata e mescolate uova e pecorino no non puoi mettere aglio cipolla e non usare la pasta scadente e non devi sbagliare amante car altrimenti sta roba farà cagar cane 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 Sta roba dalle al cane, ma anche lui ha schifo Perché ci hai messo il latte, perché non hai dato retta a me Sono così poche regole, non è roba da grandi chef Potrebbe cucinarla anche Rex No, non puoi sbagliare l'amante car E no, la panna non metter mai Non puoi mettere aglio cipolla Altrimenti sta roba farà cagar